Catechesi 134 Vangelo, Luca 17, 1, 6 se sette volte ritornerà a te dicendo, sono pentito, tu gli perdonerai. La fede profonda e vissuta è la chiave di volta per elevarsi dalla condizione miseramente umana ed entrare nel soprannaturale. Senza la fede qualsiasi credente si trova incapace di dare spiegazioni a tutto quanto fa parte della dimensione spirituale e le risposte umane che trova sono frutto dell'immaginazione o fantasia. La fede praticata in ogni contesto della giornata permette di agire in modo diverso rispetto al passato, tutto si valuta con un'altra mentalità e si agisce con una nuova motivazione eologica. È la fede che bisogna curare con una premura maggiore a quella che si ripone nelle cose materiali più importanti. Prima di parlare della fede, Gesù spiega la gravità degli scandali, si sofferma a precisare con l'utilizzo di parole forti, le conseguenze scaturite dai comportamenti incoerenti compiuti dai cristiani e specialmente dai consacrati. Come esempio rende presente la sciagura che capita a chi si getta in mare con una pietra legata al collo. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. È preferibile la morte fisica di chi commette continui scandali piuttosto della morte spirituale di centinaia o migliaia di credenti. Anche di atei ognostici. La tremenda punizione inflitta a coloro che scandalizzano i piccoli, i semplici, le persone buone, e la loro stessa scomparsa. Certo, seguendo questo ragionamento oggi dovrebbero scomparire diversi miliardi di persone scandalose, non solo quelle famose che istigano a peccare loro fan o quantomeno a condurre una vita immorale. Esiste una immoralità perversa segreta che riguarda anche incalcolabili persone che pubblicamente si mostrano con un aspetto per bene e un linguaggio pulito. Quando scende la sera e o durante il giorno in luoghi sottratti alla vista dei familiari e della gente si trasformano e pervertono. Gesù è molto chiaro sulla gravità dei vizi. È inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. Devono avvenire perché l'uomo di bassi istinti agisce come un animale, non si controlla e ogni pensiero perverso lo soddisfa sempre. Influenzare gli altri che vedono in qualche modo scene di immoralità o conoscono storie vere di tradimenti e perversioni, fa appiccicare il marchio di scandalosi. Forse gli altri neanche se ne accorgono ma davanti a Dio nulla sfugge e di tutto si dovrà rendere conto. Gli scandali pubblici avvengono in molti ambienti, molti scandali rimangono circoscritti e gli autori pensano che non siano a conoscenza di nessuno. Sono proprio sicuri che nessun altro uomo conosce i loro tradimenti più segreti, le truffe allo stato dei politici, le opere depravate, la corruzione degli uomini di chiesa? Oggi è il tempo della misericordia, è ancora tempo di convertirsi sinceramente e ritrovare quella dignità perduta. E' ancora tempo prima che non ci sia più tempo e chi ha sbagliato gravemente o continua a vivere in una condizione di peccato grave, si fermi e lascia risolutamente ogni forma di immoralità per non dare più scandali neanche alla persona con partecipe. Chi pensa di non essere veduto nelle opere corrotte, rifletta su Dio che vede tutto e darà ad ognuno il premio eterno o la condanna eterna. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Luca 17 26, 37 Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. L'avvertimento che dà Gesù nel Vangelo è di quelli severi, ci anticipa che in questi tempi accadrà qualcosa ancora più grave del diluvio. Quanto avvenuto nel diluvio è poca cosa rispetto all'intervento di Dio che dovrà fermare l'autodistruzione degli uomini per il ricorso alle armi nucleari. Sarà un intervento a beneficio dell'umanità, ma ne approfitterà per separare buoni e cattivi. In quella notte, due si troveranno nello stesso letto, l'uno verrà portato via e l'altro lasciato, due donne staranno a macinare nello stesso luogo, l'una verrà portata via e l'altra lasciata. Gesù ricorda il diluvio in questo discorso per far ricordare che quando l'umanità si dimentica di Dio ci sono sempre conseguenze dolorose. Nessuno può travisare le sue parole. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. La società di oggi è ritornata pagana come ai tempi di Noè, anche oggi si mangia, si beve, si prende moglie, si prende marito e non si pensa più a Dio. Lo stesso avveniva nei giorni di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma, nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove fuoco e zolfò dal cielo e li fece morire tutti. Dio non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva, ma se invece il peccatore rifiuta Dio e vive come una bestia? Dio continua a richiamare il mondo corrotto a ritornare a lui, e l'ennesimo tentativo di un padre buono che non vuole vedere i suoi figli distrutti dai vizi e dalle guerre, e senza il ritorno alla preghiera questi miliardi di peccatori finiranno per incappare nelle più terribili disgrazie. Gesù anticipa quanto accadrà nel tempo in cui questa società si dimenticherà di Dio e si volgerà verso l'innominato. Cosa sarà costretto a fare il padre buono e misericordioso per fare rinsavire i suoi figli? Accadrà quanto è avvenuto già nel diluvio, e non è una profezia condizionata da qualcosa? Si avvererà questa tragica parola perché l'umanità non è più in grado di pentirsi e ritornare a condurre una vita onesta, sobria, virtuosa e pura. Perché è precipitata in un abisso scuro dove regna il sonno della morte, incapace di sentire e riconoscere la voce di Dio, sedotta dalle sirene incantatrici del mondo, dietro le quali ridebbe fardo Satana. Le parole di Gesù sono molto precise. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. Con questo avvertimento Gesù ci mette in guardia, ci avvisa e siamo chiamati a fare una scelta definitiva. Continuare a dissipare ogni bene oppure fermarci e ricominciare una vita improntata sul Vangelo. Le conseguenze saranno differenti, ovviamente, Gesù le spiega per dare maggiori delucidazioni. In quella notte, due si troveranno nello stesso letto, l'uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo, l'una verrà portata via e l'altra lasciata. Quindi Gesù tornerà nella gloria ma non sarà la fine del mondo, non si mostrerà come duemila anni fa ne sarà rivestito di un corpo mortale perché è il figlio di Dio eterno. Nessuno lo vedrà sulle strade o in piazza, saranno ingannatori quelli che diranno di vederlo, come già succede a migliaia di falsi veggenti in questi tempi. Invece quando tra moltissimi anni Gesù si mostrerà visibilmente a tutti, sarà la fine del mondo ma è ancora molto lontana, prima dovranno avverarsi molte profezie. Nessuno sa quando verrà Gesù per giudicare il mondo ma passeranno ancora millenni, nel frattempo questo mondo non potrà perseverare nel male e dovrà subire un fortissimo richiamo, una fortissima purificazione. Noi stiamo vivendo la fine dei tempi, non la fine del mondo. La fine di un tempo in cui Satana sarà legato e gettato nello stagno di fuoco e verrà concessa all'umanità un tempo di pace e prosperità. Gesù nel suo corpo glorioso, quando giungerà il tempo della purificazione, illuminerà l'intelletto di ogni essere umano e si farà riconoscere come Dio. Le risposte saranno di accoglienza o di rifiuto, ma sarà l'ultimo appello divino per rimediare ad una vita corrotta. Gesù verrà nello splendore della sua gloria sulle nubi del cielo per fermare le spaventose guerre e verrà per farsi riconoscere come il vero e unico Dio. Poiché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del padre suo Matteo 16 e 27. Non dimentichiamo la profezia in San Matteo della caduta dal cielo nel tempo delle guerre. Subito dopo la tribulazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli estri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Matteo 24,29 Noi siamo davvero benedetti per avere scoperto il regno di Dio, esso in mezzo a noi, e dentro di noi, lo portiamo nel nostro cuore, nella mente, spirito e anima in tutto ciò che facciamo di buono. Noi mostriamo ai presenti il regno di Dio. Nelle opere che compiamo se presentano la verità, l'amore, la pace, la giustizia, la misericordia, la carità verso tutti, con uno spirito di umiltà. I falsi cristiani e i tiepidi non riconoscono in essi il regno di Dio, fingono di vivere in comunione con Gesù ma lui non li conosce, perché sono le opere buone a mostrare l'autenticità della persona. Chi vive nella grazia e nella verità porta in sé il regno di Dio, e con Gesù siamo già regno di Dio, quindi non abbiamo nulla da temere. Ricordiamoci sempre di pregare per la conversione dei peccatori, perché non c'è carità più grande che strappare un nostro fratello dagli artigli di Satana, il quale, per un odio implacabile a Dio, vuole trascinare tutti all'inferno. Buona preghiera a tutti! Vangelo, Matteo 25, 14, 30 Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Inizio con la spiegazione della parabola per precisare subito i significati. I servi siamo noi. I talenti sono le doti che Dio ha dato a ciascuno, intelligenza, la capacità di amare, di rendere felici gli altri, i beni temporali. Il tempo durante il quale il padrone è in viaggio e la vita, il ritorno inatteso e la morte, la resa dei conti e il giudizio, il banchetto e il cielo. Dopo aver compreso i significati di questa bastonante e illuminante parabola, chiediamoci con profonda sincerità, che uso facciamo del nostro corpo e dei nostri sensi? Dell'anima e delle sue capacità? Servono veramente a dar gloria a Dio? Noi non siamo servi, come Gesù ripete di continuo nel Vangelo, siamo amministratori di alcuni beni di cui dobbiamo rendere conto. Il mondo corrotto non capisce questo e chi ha conosciuto il cristianesimo per poi abbandonarlo gettandosi nelle braccia della perversione, non vuole accettare la stessa idea che siamo creati da un Dio amore e che ci ha donato tutto Lui. Lo ha fatto gratuitamente, tutto ci è stato donato senza i nostri meriti. Verrà il tempo in cui Dio ci chiederà conto di tutto. Dobbiamo chiederci alla presenza di Gesù se abbiamo davvero mentalità di amministratori dei suoi doni e della vita che ci ha donato, e non di padroni assoluti, che dispongono al loro piacimento di ciò che è nelle loro mani. Chiediamoci se impieghiamo bene i talenti ricevuti. Le ricchezze materiali, la capacità di lavoro, l'amicizia. Gesù ha donato a ciascuno di noi un certo quantitativo di doni, oggi vuole vedere se li amministriamo bene, Lui si aspetta una risposta proporzionata a quanto abbiamo ricevuto. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più Luca 12 e 48. Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco e, dice Gesù a chi aveva ricevuto cinque talenti. Il servo aveva ricevuto molto, ben cinque talenti ma Gesù anche se loda il servo perché aveva fatto fruttare i suoi talenti, in realtà quel molto è sempre considerato poco da Dio. Oltre a quanto ci ha già donato, vuole continuare a ricolmarci di doni. Siamo noi a decidere con la nostra vita quanta grazia deve donarci Gesù. Il poco fatto costantemente con amore diventa grande davanti a Gesù. Il molto ricevuto dal servo, in realtà il prendere parte alla gioia del Signore, non c'è ricchezza più grande di stare in Dio. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Chi prende parte alla gioia di Gesù è davvero benedetto, è quel credente che oltre a far fruttare i suoi talenti con impegno e amore, osserva la parola di Dio perché la conosce e la medita di continuo. Chiediamoci se vale la pena qui in terra di essere fedeli mentre attendiamo l'avvenuta del Signore. Cosa gli diremo? Non facciamo come il servo che aveva ricevuto un solo talento e andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone, cioè il talento ricevuto. Quando il padrone poi gli chiede conto, osa anche accusarlo di essere duro e un servo fortemente arrogante. Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Questo servo che ha ricevuto un solo talento mostra come si comporta l'uomo quando non vive una fedeltà operosa nei confronti di Dio. In questo servo pieno di vizi prevale la paura, la stima di sé, l'affermazione dell'egoismo, e cerca di giustificare il proprio comportamento arrogante con la pretesa ingiusta del padrone. Se il padrone gli aveva dato quel talento, perché non lo ha messo in pratica? Infatti il padrone resta amareggiato e disgustato dall'indifferenza del servo e dalla sua vita dissoluta. Servo malvagio e pigro. Questo servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre. La sarà pianto estredore di denti. Come vediamo è il servo a costruirsi il suo futuro, la sua vita viziosa e festaiola gli ha fatto perdere l'utilizzo del talento, dell'unico talento che aveva. Ecco perché il padrone ne aveva donato solo uno, già conosceva l'incapacità di quel servo di far fruttare i talenti e non lo caricò di maggiori colpe. Questo servo conosceva il Signore come gli altri due servi laboriosi, nonostante questo non lo ha amato e non ne prova pentimento. Così ci si avvia verso l'inferno, è la persona corrotta e ostinata ad incamminarsi verso la definitiva dannazione eterna. L'uomo è stato creato per conoscere, amare e servire Dio in questa vita e poi vederlo e goderlo per sempre nell'altra. La mancata obbedienza a Dio indica l'indifferenza del servo malvagio, il rifiuto di amarlo, perché quando si ama, servire non solo non è costoso e umiliante, è invece un piacere. Quel servo non ha servito il suo padrone per mancanza di amore. Questo non succede a noi, chiediamo alla Madonna ogni giorno nel Santo Rosario di farci crescere nell'amore verso Gesù. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Luca 21, 5, 19. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. La perseveranza per salvare l'anima, i falsi profeti, le guerre, i cataclismi e la persecuzione da parte dei cattivi, sono gli intensi argomenti che troviamo nel Vangelo di oggi. Spesso i cristiani non li considerano attentamente. Si sorvola sulla perseveranza per salvare l'anima e non si conosce il vero cammino spirituale da compiere, come anche non sempre si agisce secondo il Vangelo dinanzi ai cattivi. Gesù parla della perseveranza spirituale per la salvezza delle nostre anime al termine di questo fortissimo discorso, dopo aver elencato varie profezie che sono sotto i nostri occhi in questi giorni e che si realizzeranno molto presto. Il Signore precisa che si tratta di un tempo di sofferenze e queste prove scaturiranno non per volontà di Dio, sono i progetti malvagi degli uomini diavoli, a costringere il Creatore a fermare la follia umana. Dio non vuole la nostra sofferenza, interviene per amore nostro, deve utilizzare poi le maniere forti per svegliarci. Quando un figlio non vuole ascoltare continua a sbagliare, a distruggere se stesso i beni della famiglia, i genitori sono costretti a reagire per evitare guai ancora più gravi. Non si deve mai indicare Dio come colpevole delle calamità, semmai egli qualche volta permette il male per salvare le anime delle sue creature. Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Si può imputare a Dio tutto questo? Non c'è una sola spiegazione valida per colpevolizzare Dio, ma anche i cristiani nella loro confusa dispersione talvolta si lamentano di Dio. Gesù ci ha dato questo avviso perché ognuno si prepari, questo è il tempo più difficile della storia umana. Sta a noi comprenderlo. Le guerre, i cataclismi e la persecuzione dei cattivi sono i più grandi pericoli che questa generazione sta vivendo, sono disastri intenzionalmente determinati da gruppi di potere degli illuminati massoni che hanno già pronti i loro spaziosi bunker dove rifugiarsi, e sono felici nel pensare alla desiderata distruzione di ampie parti della Terra. Sono follie degli uomini consacrati a Satana, sono burattini manovrati dai diavoli che sperano di sferrare l'attacco definitivo al cristianesimo e al mondo. Se la gloria di Dio è l'uomo vivente, i diavoli fremono per realizzare quanto finora è stato impedito, purtroppo riusciranno a causare tanto male sulla Terra. Gesù ci parla anche dei falsi profeti che in questi tempi ingannano già centinaia di milioni di persone e con le loro opere riescono ad allontanare tutti i loro seguaci dalla verità, anche se esprimono parole cristiane o invitano addirittura a pregare. Nelle loro parole si nascondono inganni e la stessa vicinanza o la fiducia che si ripone in essi è già una maledizione e si finisce ad essere contaminate dai diavoli. Le rivelazioni che vi dico, date da Gesù e dalla Madonna Luz de Maria, sono autentiche non tanto per la mia convinzione, è il contenuto assolutamente evangelico, profetico, lineare, conseguenziale, coerente e logico, e a testimoniare la provenienza divina. Se ho scritto questa impegnativa precisazione che ribadisco, almeno fino all'ultimo messaggio perché il futuro lo sa solo Dio, è dovuta alla gravità del momento che stiamo vivendo. Chi ha qualche dubbio, approfondisca il contenuto e vi troverà insegnamenti straordinari, comprenderà che Gesù Amore ci sta avvisando e ci sta rivelando molte cose segrete che nessun veggente riesce a dire con questa precisione. Chi medita le rivelazioni dati a Luz de Maria percepisce nei suoi messaggi una intensa spiegazione del Vangelo, una vera e propria catechesi. Abbiamo letto oggi cosa ha detto Gesù a una mistica parlando di questi tempi, e la sua spiegazione è chiara sui veri e falsi veggenti. Badate che nessuno vi seduca in futuro. Io sono il Cristo e non vi saranno altri Cristi. Perciò, quando molti verranno a dirvi, io sono il Cristo e sedurranno molti, voi non credete a quelle parole, neppure si saranno accompagnate da prodigi. Satana, padre di menzogna e protettore dei menzogneri, aiuta i suoi servi e seguaci con falsi prodigi che durano poco, che però possono essere riconosciuti non buoni perché sempre uniti a paura, turbamento e menzogna. I prodigi di Dio voi li conoscete. Danno pace santa, letizia, salute, fede, conducono a desideri e opere sante. Gli altri no. Perciò riflettete sulla forma e le conseguenze dei prodigi che potrete vedere in futuro ad opera dei falsi Cristi e di tutti coloro che si emanteranno nelle vesti di salvatore di popoli e saranno invece le beive che rovinano gli stessi. Sentirete anche, e vedrete anche, parlare di guerre e di rumori di guerre e vi diranno, sono i segni della fine. Non turbatevi. Non sarà la fine. Bisogna che tutto questo avvenga prima della fine, ma non sarà ancora la fine. Quindi, Gesù ha detto alla mistica che i falsi veggenti infondono paura, turbamento e utilizzano la menzogna. In Italia c'è un veggente che quando parla con chi gli pone qualche domanda si trasforma e spesso le persone buone vedono sul suo volto cose molto brutte. Di lui nessuno dice nulla, eppure migliaia e migliaia di persone fuggono da lui. Solo le persone buone e spirituali si accorgono della trasformazione del suo viso. E non è mai stato perseguitato. Fortunato e oggi Gesù ci dice che i suoi veri seguaci sono sempre perseguitati ed è questo il segno che appartengono a lui, mentre i seguaci di Satana non vengono mai ostacolati né tormentati. Sono addirittura agevolati in tutte le loro opere. Forse perché danno decine di migliaia di euro a determinate persone. Soldi dati come aiuti e ci mancherebbe non sono mazzette e Luz de Maria ha ricevuto messaggi molto forti per scuotere le coscienze, per spingere i peccatori e i tiepidi a riflettere per iniziare un vero cammino spirituale. Una persona ingannatrice non scriverebbe queste parole forti e che impegnano nella riflessione. Ella non ha alcuna intenzione di attrarre a sé e questo è un buon segno, mentre i falsi veggenti scrivono quello che i lettori sono desiderosi di leggere. Non devono incutere timore le profezie dette da Gesù e dalla Madonna, tutto è detto per il bene nostro. Non c'è alcuna ragione di spaventarsi. Chi vive una spiritualità profonda, in queste rivelazioni scopre un linguaggio divino come è presente nei veri mistici. Sono consigli, avvisi e istruzioni che infondono grande serenità e ci danno la certezza che Gesù Cristo ci protegge nulla potrà accaderci senza il suo permesso. Ma dovremmo essere cristiani autentici, in comunione con lui e obbedienti ai suoi comandamenti. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Luca 21, 1, 4. Vide una vedova povera, che gettava due monetine. Questa festa Mariana è poco compresa, nella predicazione se ne dà a scarsa importanza, come del resto avviene per alcune feste della Madonna. Molti predicatori e teologi avvertono una sottile o profonda avversità verso la Madonna e questo è chiaramente un segnale allarmante. Essi però non se ne curano, sia per l'incapacità di coglierlo sia per la profonda distanza creatasi con Dio. Nelle omelie si parla pochissimo della Madonna, spesso si ripetono le solite espressioni del Vangelo ma non si approfondisce il mistero di Maria. L'abbandono della fede, apostasia, da parte dei cristiani non più interessati al Vangelo, avviene anche inadvertitamente, non solo in questo modo ma soprattutto. Per questo sono molti quelli che parlano di Gesù senza più credere in Lui, nel senso che non si interessano più delle cose di Dio. Non avvertono più la presenza di Dio nella loro vita e questo è dovuto principalmente all'abbandono della preghiera. La crisi profonda in cui si trovano molti prelati, sacerdoti e religiosi, nasce dalla perdita del contatto con il Divino, presi come sono da tante altre cose umane e non importanti per la vita eterna. Sono forse interessi opposti al Vangelo. L'apostasia permette di continuare a compiere riti religiosi ma senza più fede, senza crederci più. Essi non si presentano a Gesù ogni mattina recitando le preghiere del giorno, non si presentano perché rimangono assenti e la preghiera non esiste più. Questa è la vera ragione della dispersione del popolo di Dio, di centinaia di milioni di credenti confusi e sbandate dai falsi annunci del Vangelo, da insegnamenti modernisti che sono in realtà protestanti. Quale responsabilità si caricano quelli che sviano i buoni cristiani dalla verità e li allontanano da Gesù Cristo e dal suo Vangelo storico? Solo i veri devoti della Madonna non si smarriscono, quelli che si consacrano al suo cuore immacolato e a lei si affidano e chiedono la sua protezione. Il dato sicuro dell'importanza della devozione alla Madre di Dio viene dato dai Santi, sono incalcolabili quelli canonizzati e quasi tutti nella vita sono stati potenti mediatori di grazie, con le loro preghiere e le costanti rinunce. Santi e sante che hanno trascorso la vita nella gioia perché ricolmi di Spirito Santo nonostante le grandi avversità di tanti nemici e invidiosi. Solo la Chiesa Cattolica ha avuto tutti questi Santi, resi famosi dai grandiosi miracoli che ottenevano per la loro fede profonda, pura, fiduciosa. I miracoli possono ottenerli tutti quelli che pregano bene, frequentano i sacramenti e sono distaccate dalle cose materiali, ma tutti devono sempre ricorrere all'intercessione della potentissima Vergine Maria. Ella ci spiega che il vero Cristiano si presenta a Gesù, si dona a lui e si mette nel suo cuore. Si abbandona a lui per compiere la sua volontà. Questo Cristiano è davvero felice anche se non vive nel benessere, ma ha scoperto il vero bene che nessuno gli potrà togliere mai. La festa di oggi ci permette di arrivare a comprendere una verità che non troviamo scritta nel Vangelo ma è stata rivelata a una mistica e alla venerabile Maria da Greda, ed è comunque la logica a indurci a credere che Maria bambina aveva già a tre anni l'uso della ragione. Ella comprendeva tutto fin dalla nascita perché immacolata, unica creatura ad avere questo privilegio. A tre anni era convinta che doveva donarsi totalmente a Dio, era attirata da Dio e non pensava ad altro nella sua vita. Con la presentazione al Tempio, Maria bambina si mise al servizio di Dio, si consacrò a lui nella convinzione che doveva necessariamente santificarsi perché non c'è altro modo per ringraziare un Creatore pieno di bontà e fin troppo paziente. Maria Santissima consacrò tutta se stessa a Dio all'età di tre anni e nulla volle tenere come propria volontà. Scelse come guida la volontà di Dio e per l'intima comunione stabilita, la percepiva interiormente con molta facilità. La volontà di Dio viveva in lei perché la scelse come vera guida. Mai la Madonna commise un minimo errore perché aveva scelto di compiere esclusivamente la volontà di Dio. Nella sua presentazione a Dio, ella donò tutto e non conservò nessun aspetto umano della sua spiritualità. Questa la ragione della sua inarrivabile crescita nella fede, e nell'Annunciazione vediamo una fanciulla sicura di sé e per nulla confusa. Chiese solo come poteva nascere da lei un bambino se aveva consacrato anche la sua verginità a Dio. Anche noi dobbiamo presentare a Gesù e Eucaristia tutto quello che ci appartiene, piccolo e grande, perché Lui ne disponga come crede e questo ci faciliterà la vera conversione. Offriamogli la volontà e per fare questo occorre una fede matura, ma il credente sarà sempre libero di scegliere, non avrà un obbligo. Ognuno è libero di fare come vuole, anche di sbagliare percorso e tutte le scelte della sua vita. La richiesta di seguire la volontà di Dio è già un atto di abbandono che si concretizza realmente ogni qualvolta ci rinneghiamo veramente, compiendono le cose futile che piacciono ma le buone opere che santificano. Chi prega e segue il Vangelo storico non sbaglia la strada della salvezza nelle scelte della vita. Offriamo a Gesù e Eucaristia tutto quello che ci appartiene, anche le miserie e le debolezze, chiedendogli di aiutarci a iniziare il vero cammino. Buona preghiera!